buongiorno buongiorno l'ultimo dell'altro buongiorno buongiorno sta a mangiare le cartellate dalla suocera sì le ultime le ultime le ho conservate per oggi eccoci qua ragazzi finalmente dopo tante peripezie un po' di macumbe un po' di macumbe che ci hanno fatto francesco influenzato problemi al camper di tutto di più ci è successo siamo riusciti a partire e stiamo raggiungendo il resto del gruppo che si trova a pesca servili avete visto dal video precedente che direzione dell'aquila quindi abruzzo qui abruzzo stiamo andando a festeggiare il capodanno e a pesca a seno comunque ricordatevi di iscrivervi sotto alla pagina mettete un like se vi piace il video parla ma non parla tanto e questo sta a fine cartellate buon appetito vabbè ragazzi buona visione ciao a dopo buongiorno 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 zilucia e allora eccoci qua abbiamo sistemato l'accampamento guarda tutti qua guarda 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 tutti i nostri camperini ecco il nostro camper abbiamo montato la tendina si luciano e maria laura stana sistemava dentro ecco la nostra tendina non abbiamo messo il paraspifferi sotto però va bene la signora sta qua sta prepara ambrina c'è già paura il nostro bottino è pronti per festeggiare questo fine anno alla faccia di chi ci vuole male vero ti lucia perfetto alla faccia di chi ci vuole male successo l'ultima che mi è successo ma se è bruciata centralina abbiamo dovuto fare la pista ha rotto il telefono di moglie ma sti gran vabbè andiamo avanti e dobbiamo finire questo è l'arsenale questo è per dopo ti lucia ma questo è per dopo questo quattro bottiglie aspetta ma c'ho gli altri e le altre ciò gli altri vabbè andiamo avanti e poi vediamo ciao raga stiamo combattendo con una scimice è scomparsa raga è scomparsa oddio raga c'ho paura c'ho paura zio luciano salvaci raga ci dobbiamo salvare raga ce l'abbiamo fatta è al prossimo video buonasera ragazzi eccoci qua siamo pronti per fare il mitico cenone di capodanno le nostre luminarie qui c'è chi fa un po di carne alla braccia eccole qua guarda come lavorano aia aia eccoli io mi sto a bagnare qui c'è Walterino abbiamo il fornello del zio luciano il tizio il tizio che ha messo la benzina e poccia di gasolio autista non le diciamo stai cosa è zio luciano bisogna dirle non le diciamo un autista tra benzina centraline rovinate eh però ce l'abbiamo fatta siamo riusciti a fare tutto siamo al completo siamo al completo andiamo a vedere dentro che cosa ci sta guardare guardate eccoli qua eccoli eccoli queste sono tutte le tavolate guardate ciao mariana ciao ciao la tavolata e andiamo da un'altra parte buonasera c'è dj renato lì che mette il lounge bar ecco la tavola dei bambini eccoli ecco la vigilia di capodanno ciao mi dici il menù di questa sera allora cocktail di gamberi eccolo ostiche che hai comprato tutti ostiche di antipasto perché non me ne bagno io poi abbiamo il panettone gastronomico panettone gastronomico ok poi abbiamo il gnocchetti e la crema di scampi e poi passiamo al secondo da maria Laura e poi c'è l'altro primo di maria Laura che sono i paccheri dice 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 dici dicci vaccri con gamberi e calamari a chi ha soffritto questa salsicce è sempre una salute a fish o le mani dai salute è un augurio speciale da Francesco auguri eh venite a pescare l'olandia no quando è il 2024? quando è il 2024?